Buongiorno amici di Topland, un popolo bianconero, amici giubentini vicini e lontani, primo video della stagione, primo video purtroppo inedito per me perché lo faccio dalla clinica dove mi trovo per i nostri problemi personali alla gamba diciamo, qui procede tutto abbastanza bene, è decisamente quasi guarito, ho tolto i punti, ora aspetto di iniziare la seconda fase, dovrebbe essere la fase finale, quella della riabilitazione, se tutto va bene, entro settembre dovrebbe iniziare, faccio i dovuti scongiuri e mi faccio anche gli auguri, speriamo bene, che poi sia la parola fine, la parola definitiva, tutto perché dopo due anni sarebbe anche ora, vabbè, niente, a parte quello, ottimo inizio della Juve, un po' in fase di rodaggio diciamo perché non è che siamo partiti come una Ferrari, però siamo partiti bene, diciamo Iguain ingrassato di qua, Iguain in sovrappeso di là, però intanto una pepita, una pepita alla Fiorentina l'ha cacciata e ci ha regalato subito tre punti, seppur faticando un attimino, ma l'abbiamo vinta, con la Lazio per un tempo e venti minuti, non è che siamo stati stratosferici diciamo, mi è sembrata una Juve un po' sbialita, si è lasciata un po' troppo l'iniziativa all'Alazio, per fortuna non l'hanno concretizzato, poi al ventunesimo del secondo tempo, Gran Perla di Codichelira, come contro la Fiorentina, ho detto questo, se appena appena riesce a fare una stagione come Dio comanda, senza i soliti infortuni, è un gran giocatore, non ci sono dubbi, mi lascia perplesso le Minà, le Minà sinceramente non un granché, almeno domenica non un granché, mi è sembrato, speriamo migliori, Dybala, Dybala in fase di rodaggio, ma arriverà, non c'è dubbio che arriverà, ma Anzuchic è così così, il Pipita è entrato, però non pervenuto, diciamo, ha giocato un po' poco, non pervenuto, i buffoni non ha una parata e basta, diciamo, è quasi inoperoso, e niente di cosa, abbiamo fatto altre punte, abbiamo risolito un altro gradino verso la scalata da Tricolone, ora c'è la sosta, poi c'è la sastuola, speriamo di fare altri tre punti anche lì, anche se è una squadra da prendere un tantino con le molle, diciamo, e niente, mando un saluto a tutto il popolo bianconeo, ai servisti bianconeo di Topland, a Marcello, a Walter, a tutta Topland, bentornati, scusate se ci sono solo invidio, ma tornerò, prima o poi tornerò, diciamo, e non vedo l'ora che, chissà mai che un giorno vi conosca anche giù, anche di persona, un saluto ancora, un abbraccio, alla prossima e sempre Forza Juve.